Con le dimissioni degli ultimi quattro assessori si è concluso il lavoro della giunta del secondo mandato del sindaco Maurizio Brucchi. Dopo le dimissioni degli assessori di Futuroin, ieri hanno firmato anche Cozzi, Tancredi, la Misticoni e la Marchese. È stata una richiesta da parte del primo cittadino o una vostra scelta? È stata una richiesta, quindi un atto di responsabilità per i nostri cittadini, per cercare di evitare che ci sia lo spettro di un commissoriamento che vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto in questi anni, cioè quelli di mantenere alti i servizi sociali e della scuola. Ci sono state sicuramente delle incomprensioni, ci sono state delle aspirazioni sicuramente lecite, ci sono state delle aspettative, però d'altronde quando una coalizione vince, trovare un equilibrio tra le forze non sempre è facile, trovare un equilibrio tra le varie anime che compongono i vari partiti non è sempre facile. Ragion per cui da dove vengono questi, da questo neo, da dove proviene da lontano. E quindi andava stoppato, dopo due anni andava sicuramente stoppato questo clima, in modo tale da ritrovare la giusta serenità per governare questa città. Una richiesta condivisa quindi e non una scelta personale, come conferma l'ex assessore Misticoni. Ieri il sindaco ci ha comunicato che il varro della nuova giunta è imminente, per cui chiaramente ci ha chiesto per ricomporre la giunta con più serenità, di fare questo passo che noi abbiamo fatto di buon grado. Si attende ora la riunione prevista per stasera, il quinto tavolo politico, ma il primo allargato al quale siederanno infatti tutti i gruppi. Quindi il sindaco sottoporrà questa proposta piano programmatico di prospettiva per andare avanti, non solo ai gruppi che sono in maggioranza in questo momento, ma anche a Fratelli d'Italia e alla lista civica per eventualmente avere un appoggio. Entro sabato sarà presentata la nuova giunta, così come annunciato dal primo cittadino.